Musica Bene, eccoci insieme ancora una volta. Con noi ospiti in studio c'è Cécile Rousset, animo giramondo, da qualche tempo però si è fermata a Venezia dove è titolare dell'agenzia Vivo Venezia ed è consulente turistica per Confartigianato del Veneto, organizzazione d'impresa per la quale ha realizzato questa iniziativa assolutamente nuova. Sono i cofanetti di esperienze da poter vivere nel mondo artigiano. Noi siamo abituati a vedere analoghe iniziative che riguardano alberghi, ristoranti, spa, palestre e quant'altro, ma la bottega artigiana in quanto tale, ancorché abbiate iniziato dall'aspetto alimentare, non era stata ancora assondata. L'idea da cosa è nata? Allora, con la Confartigianato lavoriamo già ormai da due o tre anni sul fatto di sviluppare un'esperienza in bottega. Vuol dire non andare soltanto a degustare qualcosa, ma proprio capire come si fanno le cose. Questa formula qua della smart box del cofanetto è molto utile perché permette a ognuno di scegliere con calma ed è un regalo perfetto. Quindi siamo partiti adesso un po' prima di Natale con questa iniziativa che permette a chi lo compra, l'iniziativa è valida un anno, ha circa una ventina di aziende da visitare che vanno dal formaggio alla grappa, al vino, alla birra, salumi. E può andare per due a degustare ma soprattutto capire come si fa il prodotto che stanno degustando. Quindi a volte possono un po' mettere le mani in pasta, possono visitare l'atelier, come si fa il formaggio. Quindi non c'è la parte soltanto degustazione ma è proprio entrare nella vita dell'artigiano. Quando li abbiamo visitati, perché ovviamente li conosciamo tutti, gli artigiani, quello che viene sempre è raccontano la loro storia, sono contenti di ospitare e raccontano tutti più o meno che sono storie di famiglie. Cioè l'identità di un'azienda artigiana è proprio l'identità di una famiglia, è una storia veramente in cui ci si va a parlare del prodotto ma da tutto quello che implica la storia di questa famiglia su quel territorio. Quindi si va a vivere qualcosa che è molto umana come esperienza e è convolgente. Ecco però se dobbiamo pensare all'immaginario che abbiamo dell'artigiano, generalmente non è una persona particolarmente avvezza all'ospitalità. Lo vediamo più una persona impegnata nel proprio lavoro. Qua avete dovuto anche cercare delle tipologie particolari, cioè degli artigiani che avessero voglia di aprirsi e confidarsi. Sì, allora è ovvio che tutte le aziende che hanno aderito a quel tipo di progettualità amano ospitare. Quindi c'è la volontà di aprirsi, di raccontarsi, di mettersi in gioco. Quindi è ovvio che non siamo tutti portati ad ospitare qualcuno in casa. Ed è ovvio. Anche se questo, devo dire, è anche un'evoluzione un po' del mondo artigiano. Possiamo chiamarli, perché va di moda, l'artigiano 2 o 3 o 4.0. Insomma, non perché sia particolarmente avvezzo ad usare internet magari, ma proprio perché ormai non è più l'artigiano di 30 o 40 anni fa. Quindi anche il rapporto con il cliente o comunque l'utente è diverso. Ma allora, l'artigiano ha piacere a mostrare che veramente fa le cose con le mani. Perché siamo, credo, in una società dove abbiamo perso il rapporto con la manualità, no? Dove alla fine ci vendono tutto mid in Italy, mentre magari alcune cose sono fatte in Cina e non si sa più. Poi sul cibo la tracciabilità è molto importante. C'è il cibo e la nostra salute. Quindi è ovvio che uno è anche orgoglioso di poter mostrare e noi come consumatori, quando entriamo nella bottega, nel caseificio, a vedere com'è fatto, è ovvio che ci dà tutto un altro impatto. La cosa interessante, questi tipi di cofanetti sono usati sia da turisti, ma anche da gente veneta o italiana. Per l'artigiano è ovvio che è anche un modo per creare filiera corta. Dopo la persona può venire a comprargli direttamente i suoi prodotti. Quindi crea, va al di là del turismo, va al di là dell'articolo, cioè crea proprio una filiera corta a livello di produzione. Questa è una cosa abbastanza interessante. Ecco, questi cofanetti uno li potrà acquistare, come immagino, per altre analoghe iniziative, insomma, in libreria piuttosto che in altro tipo di negozio. Per cui può andare in mano anche ad un ospite straniero. Ecco, questi sono anche artigiani che sanno parlare le lingue? Allora, sì, abbiamo anche... Sanno accompagnati. Allora, questo qua è in italiano, l'abbiamo pensato più per, diciamo, un mercato italiano. Però abbiamo già pensato di fare una... il proseguimento del progetto è il seguente, vendere anche l'alloggio. Quindi è ovvio che qualcuno che è in Veneto si fa una giornata, compra un cofanetto, la cosa interessante, va a fare la degustazione. Ma abbiamo anche consigliato dei posti da vedere, perché il primo artigiano è quello che sa come andare a visitare il suo proprio territorio dove vive. Però chi viene da lontano ha voglia almeno di farsi il weekend. Quindi avremo un cofanetto artigiani assieme a un bed and breakfast della zona in modo di fare il proprio sviluppo del territorio in modo più intenso. E ovviamente sarà anche in altre lingue, non solo in italiano. Esattamente, esattamente. Quindi questo è il primo spasso, diciamo che ad aprile dovremmo essere usciti con il weekend artigianale. E non ci sarà soltanto la degustazione, il gusto, ma anche andare in una bottega di ceramica o un orafo. Ecco, volevo chiedere questo, poi, qual era l'evoluzione? Quindi... Si interessava anche altre categorie professionali. Artigianato artistico, orifeceria, non lo so, chi fa metallo, chi fa... Ferro battuto. Ferro battuto, ci sono varie, anche... ci sono molti settori che possono essere interessati. Quindi sarà un'esperienza di una o due ore in modo che ci sia la possibilità di mettere le mani in pasta, ma anche là di avere la spiegazione di quel posto attraverso l'artigiano. Ecco, ma se mi è facile capire la proposta per l'alimentazione, sto pensando all'artigiano del ferro battuto, non so perché mi è venuto in mente questo mestiere, che però dedica parte del suo tempo, due ore del suo tempo, all'ospite. Che è un po' difficile che magari si porti a casa, voglio dire, una cancellata. Ecco, è stato difficile trovarli questi artigiani, perché, non so, un caseificio, piuttosto che una pasticceria, uno bene o male, ha buone possibilità che l'ospite compri anche qualcosa. Magari il ferro battuto o l'oreficeria non è proprio detto. Ovviamente l'artigiano in questo caso calcolerà il tempo che viene tolto al suo lavoro e valuterà il prezzo a cui offrire quell'iniziativa. È ovvio che deve essere un'esperienza in cui tutti ci guadagnano, quindi non deve essere, non ci deve rimettere per quello. Ovviamente chi lo fa perché lo farà? Lo farà per farsi pubblicità in qualche modo, non è una cosa diretta. Chi esce da là non andrà a comprarsi direttamente il cancello o d'altro, però magari ne parlerà e quant'altro. E quindi lo vede in quest'ottica qua di farsi promozione. Sì, sì, mi ero dimiteato. Poi comunque sono dei cofanetti a pagamento, per cui uno tarerà anche l'offerta, il costo e il prezzo sulla base del proprio impegno, certo. Sì, 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 assolutamente. E a livello di visite, questo tipo di visite, quando impegna un artigiano per tutto il tempo, e più facciamo visite guidate, in questo caso qua, facciamo una programmazione con una data e facciamo un gruppo di persone che possono essere straniere o di una persona sola per fare una visita, penso, lo squero delle gondole. È ovvio che una visita per una persona avrà un costo non indifferente, quindi noi facciamo delle programmazioni, visita dello squero o delle gondole tal giorno permette alla gente locale di andare a vedere un posto con una data particolare aperto in quel momento là. Quindi questo va al di là del cofanetto, perché il cofanetto è pensato per un individuale, mentre quando ci sono visite che necessitano di avere più gente, lì andiamo a fare una programmazione di date. Per esempio a Venezia abbiamo l'iniziativa Bottega Aperta, quindi durante la bottega aperta, con un aperitivo dentro, si va a visitare in tal giorno la possibilità di andare a vedere, per esempio, come si fonde il metallo, che il venerdì pomeriggio c'è questa cosa particolare. Quindi lì abbiamo programmazioni diverse, proprio per un pubblico locale. Questi sono i primi 20-25 artigiani, avete avuto difficoltà a trovarli? No, c'è l'interesse. C'è l'interesse e ovviamente selezioniamo bene le aziende, gli spieghiamo bene come funziona e c'è una selezione sulla qualità, perché è ovvio che la Confartigianato con i suoi soci ovviamente dà un segno di qualità, non si lavora con qualsiasi azienda e quindi c'è la volontà di selezionare chi ha un interesse turistico, perché effettivamente se un'azienda è interessata a partecipare, ma noi siamo gli esperti del turismo, andiamo a vedere e ci rendiamo conto che effettivamente non è interessante, allora valutiamo assieme che è meglio lasciare stare. Quindi c'è una selezione, cioè per quello che c'è Confartigianato, e Vivo Venezia, che è esperto in turismo, che sa cosa cerca la gente, che capisce l'aspetto esperienziale e quell'unione riesce a creare qualcosa di particolare, di veramente esperienziale. Già in questa fase iniziale sono rappresentate tutte le province del Veneto? Quasi, alcune sono poche presenti, è molto presente la provincia di Vicenza, abbiamo comunque qualcosa su Verona, in generale sono quasi più o meno tutte coperte, si può vedere là che abbiamo dei puntini un po' ovunque. Nel campo dell'alimentazione ci sono delle produzioni che sono più rappresentate? Allora, abbiamo birifici, credo che perché i birifici effettivamente in Veneto sono in crescita, quindi abbiamo vari birifici, e poi se no è abbastanza... Omogeneo. Sì, 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 sì. A livello di pasticcerie, salumifici, sì, è abbastanza omogeneo, assolutamente. È una fascia in crescita quella del turismo esperienziale? Sì, e anche il turismo del gusto, diciamo, quindi mischiare questi due aspetti pensiamo che sia molto apprezzato. Abbiamo già avuto buoni scontri e adesso l'obiettivo è proprio promuovere il territorio attraverso quell'azienda, perché la cosa quando uno ha comprato il cofanetto si dirà, ma dove vado, non vado, quindi è ovvio che è anche un piccolo racconto dell'azienda e per lei è sempre gratificante di avere una sua presentazione, ma uno dirà, beh, allora vado a passare la giornata vicino a Belluno, cosa ho da fare nelle vicinanze? Quindi direi che è uno strumento di promozione del territorio in sé attorno all'artigiano. Quindi partiamo dal contrario. L'artigiano che è sempre stato, o il mondo dell'artigianato, un po' allontanato dal turismo, adesso sta cambiando la Regione Veneto, anche con la nuova legge, integra l'artigianato all'interno del turismo e per una volta saranno gli artigiani a promuovere un po' il loro territorio, quindi le cose cambiano. Sono già distribuiti questi cofanetti? Sì, allora sono già disponibili online, fisicamente sono disponibili nelle sede della cofartigianato, sono disponibili a Mestre nella nostra sede di Vivo Venezia e saranno anche distribuiti presso le stesse aziende aderenti. Quindi adesso creeremo il circuito commerciale, perché è quello che ovviamente è molto importante, però l'idea del co-marketing ci piace e piace agli artigiani. Questo l'abbiamo già valutato. Grazie a Cecilia Rousset, titolare dell'agenzia Vivo Venezia e consulente turistica di Confartigianato del Veneto in collaborazione con la quale sono stati realizzati questi cofanetti, degustazione, viaggio nel gusto, sono le prime aziende che hanno aderito, ma l'idea, come abbiamo sentito, si allargerà all'intero comparto artigiano, in particolare dell'artigiano artistico. Grazie, buon lavoro, alla prossima! Grazie a tutti!